ciao a tutti ben tornati naturalmente vi rubo davvero pochi minuti e ci tenevo solo a dirvi che proprio oggi poco fa ho creato una piccola comunità chiamata dark souls players community e abbreviato è dspc questa è la sigla che trovate poi nel link in descrizione e che cos'è dspc è una piccola community aperta a tutti i giocatori di dark souls e con lo scopo di permettere a ciascuno di condividere i propri gameplay con utenti che hanno la stessa passione quindi è molto molto semplice naturalmente nella community sono ben accetti sia video di dark souls 1 sia video di dark souls 2 e ho già visto che qualcuno ha accettato il mio invito sono molto contento e spero che vi possa piacere e mi raccomando lo dico sempre ma vale a maggior ragione per questa community tutte le vostre opinioni le vostre critiche eccetera sono ben accette perché mi piacerebbe proprio creare un qualche cosa di amichevole innanzitutto ma che possa funzionare per tutti e quindi vi lascio il link qua sotto al video e fatemi sapere poi cosa ne pensate ciao a tutti